Lavoro in corso per pedagogia della resistenza. A breve lanceremo un nuovo format comunicativo che andrà in onda sugli spazi video e web di una delle più importanti testate dell'informazione regionale della nostra terra. Parliamo del Corriere della Calabria, lo storico giornale fondato al compianto Paolo Pollichieni, maestro del giornalismo di inchiesta a queste latitudini. Testata oggi diretta da Paola Militano, giornalista coraggiosa e donna capace di sorprendenti visioni di futuro. Il Corriere della Calabria è una voce libera che non ha padroni, è un contesto credibile dell'informazione all'interno del quale possiamo collocare con serenità questa nostra sfida editoriale. Intanto il nome del progetto ci chiameremo Lettera R, la R di resistenza che racchiude 13 anni di esperienze professionali, culturali, pedagogiche nella lotta contro la cultura mafiosa, della violenza e della prevaricazione. Cosa sarà Lettera R, cosa sarà questa resistenza? Uno spazio di parole libere, uno spazio di parole disobbedienti e ribelli, come ci ha insegnato Don Lorenzo Milani e la sua scuola, quella di Barbiana. Cioè uno spazio di parole schierate dalla parte dei deboli, di chi non ha voce, di chi subisce ogni giorno ingiustizie, sopraffazioni di vario genere, quindi una parola impegnata a ricostruire diritti. Lettera R vuole provare ad essere questo, un alfabeto del cambiamento, un alfabeto delle parole capaci di mettere in moto narrazioni di trasformazione sociale. Seguiteci!